Ciao, mi chiamo Rejziv ed è la mia prima intervista, quindi sono un po' emozionato, non so che dire. Streamo Rocket League barra faccio video da 4 anni. Praticamente è un gioco di nicchia, ma ritengo comunque molto fondamentale per me. Ho iniziato a giocare dai primi giorni, appena uscito su Steam l'ho subito acquistato e comprato. All'inizio facevo schifo, col tempo sono peggiorato, quindi mi ritengo orgoglioso di me stesso. Mi ha spinto a giocare per così tanto tempo a Rocket League la noia, perché non sapevo che fare. Mi piaceva quel gioco, miglioravo ogni tanto piano piano, la gente si affezionava al gioco e a me. E allora perché non farlo? Il mio youtuber e streamer di riferimento è Rejziv, è un grande, fa video comici, è un bel ragazzo, simpatico, quindi se volete seguitelo. Ho scelto Exceed perché giocando a un gioco, ripeto, di nicchia, è stato il primo team ad essere probabilmente interessato a uno dei miei giochi preferiti. E quindi perché non associare Exceed con il gioco preferito mio? E quindi ho scelto loro. La mia macchina preferita su Rocket League è l'Octane, Titanium White, perché uso solo macchine bianche ormai, da quello che si sa, e la ritengo ottima sia nel dribbling che in volo. Perché una persona dovrebbe seguirmi? Non lo so, me lo chiedo ogni giorno, però ogni tanto faccio ridere, la gente ride, non so, forse per il mio aspetto, però comunque l'importante è che ride. Il mio obiettivo su Twitch è essere seguito da persone che non sono mia mamma, mio papà e mio fratello. Mi chiamo Reisiv, come il mio streamer e youtuber preferito, se volete venitemi a seguire.